E' stata una cerimonia diversa dal solito, ma nel pieno rispetto delle norme anticontagio. La banca di credito cooperativo di Fano è tornata ad incontrare le famiglie per dare il benvenuto a 145 nuovi nati, con la consegna dei bonus bebè ai soci e ai dipendenti del valore di 250 euro l'uno. L'evento, che era in programma nel mese di giugno, poi slittato a sabato scorso, per il terzo anno consecutivo si è tenuto nella splendida cornice della Villa del Balì. Indubbiamente il valore della famiglia per noi è fondamentale, uno dei valori sui quali è costruita poi la nostra banca, banca del territorio, banca dei soci e quindi sicuramente riconoscere nella famiglia un riferimento importante e decisivo. D'altra parte poi attorno alla famiglia girano anche tante iniziative che sono iniziative per favorire la crescita e l'attenzione, un po' a quelli che sono i valori importanti dall'educazione e tutti gli altri aspetti, diciamo, nel portare avanti la famiglia con i valori e quindi sicuramente di essere vicini alle famiglie. All'iniziativa denominata Banca e Famiglie, partecipanti hanno ricevuto uno zainetto e uno stuoino per sedersi sul prato e fare un picnic. Inoltre hanno avuto la possibilità di fare fotoricordo e visitare il museo e il planetario. Abbiamo raggiunto dei numeri importanti, dal 2010 abbiamo iniziato questa iniziativa Banca e Famiglia, abbiamo oltrepassato 1.300 premiati per un sborso totale da parte della banca di 325.000 euro. Quindi è un piccolo segnale che vogliamo dare a ciascun nuovo nato, quindi alla famiglia, un sostegno alla famiglia e nella logica di uno dei principi della banca è quello che è l'educazione al risparmio. Iniziamo da subito con un piccolo segnale, aprendo un libretto nominativo a nome proprio del bebè, inserendo la cifra di 250 euro, un primo mattoncino e poi lasciamo ai genitori e anche i nonni di essere generosi per poter fare questo processo di risparmio. Durante il pomeriggio è stato anche presentato un nuovo corso per neogenitori sul tema la salute del bambino da 0 a 5 anni, che se la situazione legata al Covid lo permetterà sarà tenuto dai pediatri Annalisa Pedini, Gabriele Tonelli e Lisa Tonelli nel mese di novembre. Cosa buona e giusta, anche una banca del territorio che propone tanto, quindi dà tanto ed è una cosa positiva essere soci della BCC. Ed oggi avete ricevuto questo bonus bebè? Sì, un bonus, una cifra simbolica ma un punto di partenza per i piccoli e quindi una cosa importante, un libretto di risparmio che si inizia ad aprire e mano a mano si incrementerà. Com'è andata questa giornata? Ci siamo stati bene, è stata una bellissima esperienza e anche il museo che ci sono delle cose nuove ci è piaciuto e Alberto anche lui ha fatto qualcosina anche se è piccolino, però siamo stati bene.